Dottor Armando Guarini, commercialista intanto, stai facendo Masterbank, a che punto sei arrivato? Ho fatto più di metà del corso. E come hai trovato gli strumenti che ti ha fornito Malversi? Completi, intuitivi e efficaci. Allora, siccome noi amiamo dire che Masterbank è un corso pratico, e la praticità io la misuro in quanti lavori puoi portare a casa, hai già cominciato a lavorare anche se non hai finito il corso? Sì, ho cominciato. Sto portando avanti alcuni progetti grazie agli strumenti del professor Malvezzi. Perfetto, grazie. Vedremo a fine corso cosa ci racconterai. Grazie.